La presenza però arricchisce la nostra Chiesa e ringrazio e saluto tutti i sacerdoti. In modo particolare il parloco e i sacerdoti che hanno avuto in questi anni nella formazione donna, perché la ricchezza di tutto il cammino è data da tanti da sé. E ringrazio e saluto la famiglia perché è la Chiesa domestica dove si impara innanzitutto ad offrire la vita. E un saluto a tutti i seminaristi, a quelli che sognano questo giorno. Ed è bene che coltiviate dentro il sogno sacerdotale. E il saluto ad ognuno di voi.